Il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Bari Antonio De Caro si confermano anche per quest'anno gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia rispettivamente con il 74 per cento dei consensi per il presidente della regione Veneto e 65 per cento per il sindaco di Bari e quanto è emerso nella rilevazione annuale realizzata da noto sondaggi per il sole 24 ore. Sul fronte dei governatori Michele Emiliano presidente della regione Puglia fa registrare un incremento di punti in percentuale del gradimento passando dal 40 al 46 per cento. Tra i sindaci dei capoluoghi pugliesi l'unico che fa registrare un balzo in avanti è il sindaco di Lecce Carlo Salvemini che sale di tre punti percentuali. Tutti gli altri invece sono in calo. La caduta più importante è quella del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi che scende di 13,69 punti. Notevole anche il calo di Rinaldo Melucci primo cittadino di Taranto il quale perde 11 punti in percentuale. Lieve flessione per il sindaco di Andria Giovanna Bruno la cui discesa si ferma al 3,9 per cento in meno.